Chiara Ferragni, icona della moda e imprenditrice digitale, ha recentemente trovato un nuovo amore in Giovanni Tronchetti Provera. La coppia non ha esitato a mostrarsi insieme, scambiandosi baci e affettuosità, suscitando l'interesse dei paparazzi. Questo nuovo legame sembra rappresentare non solo una rinascita personale per la Ferragni, ma anche un'opportunità per rilanciare la sua immagine pubblica, dopo le polemiche legate al Pandoro Gate. Negli ultimi mesi, Chiara ha intrapreso un vero e proprio percorso riabilitativo mediatico. La sua strategia è Chiara, tornare a essere la regina dei social media e del mondo della moda. Con Giovanni al suo fianco, la Ferragni sembra aver trovato il partner ideale per accompagnarla in questo viaggio. La scelta di Tronchetti Provera, noto per il suo background impeccabile, non è casuale, rappresenta un'alleanza strategica che potrebbe aiutarla a riconquistare la fiducia del pubblico. Chiara ha ripreso a sponsorizzare il suo brand e a mostrare outfit quotidiani, dimostrando di essere tornata nel grande mondo della moda. Con Giovanni viaggia e partecipa a eventi, riprendendo il controllo della sua vita e della sua carriera. Questo nuovo capitolo non è solo una questione di amore, ma anche di affermazione professionale. La Ferragni ha saputo trasformare le avversità in opportunità, eliminando chi le ha fatto del male e presentandosi una vittima delle circostanze. La sua resilienza è un esempio di come si possa ripartire dopo una crisi.